guerriero bentornato sul canale oggi andremo a parlare di qualcosa che tanti di voi stavano aspettando ossia come andare a sbloccare le potenzialità nascoste della nostra gpu attivando il resizable bar questa tecnologia permette di avere prestazioni fino al 10 per cento superiori rispetto a quelle che attualmente avete sullo schermo bisogna però riuscire a capire come attivarla nella maniera corretta quindi mettiti comodo e andiamo a scoprire tutti i segreti del resizable bar let's go prima di lanciarci nelle informazioni tecniche un rapido accenno a che cos'è effettivamente resizable bar il base address register è una funzione che consente al processore di accedere a tutta la memoria grafica della gpu in una singola operazione senza limiti di memoria quindi si becca tutta la memoria se la ciuccia tutta e la può elaborare senza colli di bottiglia questo potenzialmente migliora tutte le prestazioni di giochi e applicazioni che supportano fattivamente resizable bar ci sono delle liste complete di tutti i titoli che supportano questa feature non tutti la supportano e anche se non è supportato la maggior parte delle volte questa feature permette di incrementare gli fps di tutti i nostri titoli ci sono alcune eccezioni ovviamente non tutti traggono beneficio c'è qualcuno che addirittura ha qualche fps in meno però nella maggior parte dei casi l'attivazione questa feature è una manna dal cielo per riuscire a tirare fuori tutti gli fps dal nostro pc lanciamoci nell'azione ma prima ti ricordo è importantissimo il tuo supporto un like un commento sono fondamentali per la crescita di questo canale quando parlo di compatibilità è perché bisogna avere un hardware che supporti a resizable bar e bisogna essere molto attenti per evitare problemi sul pc ve lo ricordo ancora una volta è veramente importante seguire passo passo tutte le istruzioni che vengono date dai produttori delle schede madri delle schede grafiche e dei chipset in generale per poter attivare tutto senza creare casini soprattutto se non avete dimestichezza con quello che state guardando guardate e basta guardate e non fate piuttosto fatevi aiutare da qualcuno che è più capace di voi e sa che cosa sta facendo la prima cosa che dobbiamo fare prima di controllare compatibilità e andare a controllare il partizionamento del nostro hard disk quindi andiamo in basso a sinistra su start scriviamo partizione andiamo su crea e formatta le partizioni del disco rigido e clicchiamo su questa bella finestrona che ci compare qua ci sono tutti i nostri hard disk belli come il sole e dobbiamo andare a controllare esattamente come sono partizionati adesso 4 vai detto un casino perché io ho un sacco di roba buttata sopra quello che devo fare tasto destro sul disco c che dove c'è il mio sistema operativo vado su proprietà e vado ad aprire questo bel diciamo meno che mi compare vado su volumi e stile partizione deve essere gpt se non fosse gpt non fate nient'alto perché se mbr potenzialmente rischiate di non poter riavviare più il pc se seguite tutti gli altri step che vi faccio vedere dopo quindi primo passo se su proprietà volumi gpt andiamo avanti tipo stiamo facendo il flowchart questo è il primo invitati a poter procedere oltre per attivare resizable bar passo successivo per poterlo attivare dobbiamo capire se abbiamo cpu bios e gpu in linea per poter attivare questa funzione dalla serie 3000 tutte le gpu nvidia possono attivare resizable bar quindi già questo se siete possessori di schede 3000 siete a posto se avete tutto quanto a posto andiamo avanti ovviamente questo è valido sia per invidia che md resizable bar la tecnologia per tutte le schede grafiche non c'è una limitazione su invidia o su md tutte quante possono attivarlo per poter attivare però come vi dicevo resizable bar bisogna avere una cpu compatibile un chipset compatibile un bios compatibile e il driver aggiornato all'ultimo disponibile se hai una giforce rtx 3060 sei a posto se hai una giforce rtx 3060 ti potresti aver bisogno di un di bios aggiornato quindi della scheda grafica il bios della scheda grafica aggiornato quindi leggetevi bene queste indicazioni è veramente molto importante ve la lascio qui apposta sotto in descrizione per così bella potete leggere senza nessun problema qui sotto ci sono tutte le cpu i chipset che sono compatibili con resizable bar quindi verificate esattamente se avete queste specifiche come faccio se non so quali sono le mie specifiche quindi qui abbiamo amd il chipset qui abbiamo la cpu di amd abbiamo il chipset intel e la cpu intel ma se io non so quel cosa c'ho vado a scaricarmi su tech power up cpu z così ho tutte le informazioni di cui ho bisogno in un colpo d'occhio vado a scaricarmi questo bel software vado a scaricarmi da qua me lo metto sul desktop lo installo ce l'ho qua sul desktop adesso qui è già partito lo installo faccio partire accetta next ovviamente io l'ho già installato lo faccio partire do sì è un software sicurissimo da tech power up non ci sono scherzetti qui abbiamo tutte le specifiche del nostro sistema cpu mainboard memoria grafica eccetera eccetera possiamo addirittura fare il benchmark quindi per chi vuole sbizzarrirsi il mio produttore della mia scheda madre e as rock e la mia il nome il mio modello e z 790 pg lightning d4 per giusto per sincerarmi ritorno sul mio sito che avevamo visto prima as rock e supporta e per vedere se esattamente la mia scheda madre attiva il resizable bar vado a cercare questa as rock z 790 pg lightning ribar support e vado dove ventro già cercato per velocizzare il video se no vi tengo qui una settimana vado to how to enable cam in the bios quindi also no as resizable bar cosa significa sta frase significa cam è uno dei modi con cui viene chiamato resizable bar cam è l'acronimo di clever access memory e si chiama per altri produttori sam smart access memory significano tutte la stessa roba accesso intelligente alla memoria per poterlo attivare clicchiamo sopra la voce ci compare questa finestrella che ci guida passo passo su come attivare il nostro clever access memory quindi seguiamo tutti i passi disattiviamo csm mi raccomando fate sta roba qua soltanto se avete la partizione gpt se non avete la partizione gpt non vi parte più il computer e io ho detto quindi poi non venite a lamentarvi da me allora quindi andiamo avanti disabilitiamo andiamo a fare disable poi andiamo a fare above 4 gg più lo attiviamo questo è importantissimo lo trovate su tutte le motherboard quindi questo da attivare dopodiché comparirà questa voce che si chiama sempre sotto il menu avanzate cam lo attiviamo facciamo f10 per salvare le impostazioni che abbiamo cambiato su questa motherboard e facciamo riavviare il computer il possessore di scheda grafica amd tutto fatto dopo aver fatto l'aggiornamento bios controllato la partizione del disco e aver aggiornato il driver della scheda grafica all'ultima release più recente entriamo nel pannello di controllo adrenalin andiamo in performance in tuning ovviamente io non ho una scheda grafica amd quindi devo trovare delle risorse esterne per potervi far vedere cosa fare andiamo dove c'è scritto md smart access memory e andiamo a flegarlo enable nel caso in cui non ce l'aveste enable anche se prima ce l'avevate enable ma non avevate fatto quei passaggi prima effettivamente non era abilitata la smart access memory o resizable bar o clever access memory ve la sto chiamando in tutti i modi con cui si chiama quindi ha fatto fatto questo chiudete riavviate e testate sui vostri titoli effettivamente se avete un guadagno di performance oppure invece per i possessori di scheda grafica invidia sono un pochettino come al solito sempre più macchinose le operazioni sulla scheda grafica invidia ma niente di trascendentale diciamo che bisogna andare in basso a destra andare sul nostro sulla note concina pannello di controllo invidia vi ricordo anche che per chi ha invece l'applicazione non c'è nessun problema potete accedere tranquillamente dalle impostazioni sempre al pannello di controllo e andiamo su informazioni sul sistema a tal proposito vi ricordo che ho fatto un video molto dettagliato su come settare al meglio l'applicazione invidia in beta e ho fatto un altro video su come invece utilizzare invece che l'app soltanto il pannello di controllo che in questo momento è ancora leggermente da preferire perché perché più leggero e quindi vi permette di performare al meglio nel momento in cui l'app sarà poi completate quant'altro ci concentreremo ci focalizzeremo sull'app che ci permetterà comunque di avere tante feature insieme comunque torniamo a noi vi lascio il link dei due video qui vicino con le immaginette e qui sotto in descrizione trovate i link per i video perché così almeno avete una panoramica completa di come settare sia l'app che il pannello di controllo torniamo al pannello di controllo qui bar ridimensionabile sì significa che è attivabile il resizable bar non significa che attivo per poterlo attivare chiudiamo tutto il pannellone perché non possiamo accedere da qua dentro quindi dobbiamo scaricarci invidia profile inspector andiamo sul nostro bel google e andiamo a scrivere invidia profile inspector andiamo a fare un bel cerca e troviamo releases orb mood 2k invidia profile inspector mi raccomando questo non altro non scaricate altra roba 26 marzo 2023 ce lo scarichiamo sul desktop notate che fra parentesi 1 l'ho già scaricato e poi me lo vado a scompattare sul mio hard disk sul mio desktop è meglio lo faccio lo apro e me lo trascino da questa parte qui eccolo qua questo invidia profile inspector faccio tasto destro esegui come amministratore lo faccio partire e non vi spaventate questo è il menu esploso di tutto quanto quello che c'è dentro i settaggi della nostra scheda grafica vado alla sezione numero 5 common e qui ho resizable bar feature che normalmente voi ce l'avete in questa modalità disable disabilitato quindi nonostante abbiamo visto che sul menu c'era scritto sì questo è normalmente disabilitato io ovviamente l'avevo già abilitato quindi andate a cliccare enable andate a mettere nella voce sotto 0x finale 1 e poi andiamo a mettere resizable size limit questo numero qui c80000 e poi abbiamo finito semplicemente facendo applica apply change abbiamo settato resizable bar anche sulla scheda grafica invidia facciamo un restart del computer e andiamo a fare i test sui nostri titoli congratulazioni a tutti abbiamo finalmente attivato con successo la funzione resizable bar sui nostri pc questo potrebbe portare notevoli miglioramenti sui titoli che giochi abitualmente quindi notoriamente le migliorie si avvertono sui titoli fps molto frenetici molto a ritmo incalzante su titoli molto invece più lenti che sui 60 frame al secondo te li godi senza nessun problema ti aiutano avendo una immagine più fluida e non avendo fenomeni di tearing e di stuttering quindi diciamo che è sempre sempre una win attivare resizable bar ci sono alcuni titoli come ti dicevo all'inizio che lo supportano male e che quindi perdono fps ma stiamo parlando del 1 2 per cento e quindi ti consiglio di fare sempre dei benchmark se attivarlo oppure no per il titolo che stai giocando è un altro consiglio che ti do è quello di non toccare niente nel bios se non sai quello che stai facendo è importante perché il bios è uno di quegli elementi delicati che se lo sputtani non puoi tornare indietro nel senso che poi devi riflesserlo e devi per forza rivolgerti a un professionista se tocchi qualche parametro strano e non sai cosa è toccato difficilmente riuscirai a recuperare o ti segni tutto e ti fai una fotografia di come all'inizio e di come lo stai andando a modificare così che poi puoi tornare a quello che hai inizialmente toccato ed è quello che consiglio sempre a tutti per imparare bisogna scriversi tutto quanto quello che si sta facendo e poi tornando indietro si può tranquillamente vedere quali sono i passaggi che abbiamo seguito prima se invece si fanno le cose così a cazzo tante volte sbrocchi tutto e devi portare il computer in assistenza quindi se uno si mette con le idee di imparare si segna sempre tutto punto per punto e poi è facile tornare indietro se invece fai le cose perché le vedi su un tutorial a tuo rischio e pericolo comunque abbiamo attivato il reset double bar adesso aspetto i vostri commenti qui sotto per sapere se è stata una win una lose se avete perso soltanto tempo oppure se avete trovato dei miglioramenti quindi guerrieri vi aspetto al prossimo video spero di esservi stati utile per il momento questo è tutto keep fighting alla prossima